Migliaia di aziende in tutta Italia hanno chiuso i battenti perché piegati dagli effetti della pandemia. Molte di esse non sono riuscite ad ottenere in tempo i ristori del danno economico subito. Altre hanno ricevuto somme talmente irrisorie del tutto insufficienti a consentire alle imprese di andare avanti. Troppi debiti accumulati in questo anno e mezzo di crisi gravissima. Ma c'è stato anche chi invece ha approfittato dell'emergenza per trarne profitto, riuscendo ad ottenere indebitamente i contributi messi a disposizione dello Stato destinati al sostegno delle imprese e delle persone in difficoltà a causa del Covid. È il caso di due imprenditori campobassani responsabili legali di quattro società di capitali scovati dalla Guardia di Finanza di Campobasso al termine dell'inchiesta portata avanti dalla Procura della Repubblica del Capologo e che ha consentito l'esecuzione su richiesta del GIP del Tribunale di Campobasso di due misure cautelari con il sequestro preventivo di beni. In particolare sono stati bloccati conti correnti, depositi bancari, beni mobili e immobili fino al raggiungimento della somma percepita indebitamente che ammonta ad oltre 80 mila euro. Secondo gli inquirenti, i due imprenditori all'atto della richiesta dei contributi previsti dal decreto rilancio avrebbero dichiarato una parte di fatturato inesistente realizzato attraverso un giro di false fatturazioni emesse artatamente per trarre in errore la pubblica amministrazione. Il reato ipotizzato nei confronti dei due è quello di truffa aggravata ai danni dello Stato. Intanto proseguono le indagini sugli esposti presentati dai familiari delle vittime da Covid e più in generale sulla gestione della pandemia dalla struttura commissariale.